I ragazzi in zona premiazione, i ragazzi, i ragazzi in zona premiazione, grazie Eh, se partì Paola, sono qua Passaggio mancano 49 g, la prima eliminazione, sa, a meno 33 La quina Questa è la prima fase interlocutoria, poi Davossi, poi capitale davanti, in questo momento Prima posizione, digitale, Helaway, Rossin, Lembienecca, Bernard B Adesso è Laura Fevori, è andato davanti per il gruppo Il primo anno semio, allora Giovane talento piacentino Vediamo adesso almeno 45 Ancora niente Linda Rossin, lui da Walloway nelle prime posizioni Adesso si comincia a lottare, si può vedere anche Elena Rosset Numero 247, prima posizione, 1013, Miltresa, first warning 304 anche, prima posizione Azzurra Speroni, che adesso si è portata in testa al gruppo Quando siamo almeno 43 Fa 10 giri La prima eliminazione Da vedere all'esterno Ma non troppo E aumenta anche Per vedere anche l'andattura Quanto Allora voi Di Natale, Rossi Il gioco di squadra della Nazionale Anche se hanno maglie diverse Un po' di schiappamenti all'inizio della curva Pilota per le posizioni Del Guay Rossi Di Natale Quando siamo già a meno 41 Melissa Gatti adesso è andata avanti Si è andata molto fortunata Credo Vado a memoria Credo sia 2002 Lei con Giulia Corsini Con il suo gruppo Attenzione Numero Un po' più avanti Un po' più avanti Alicona Bernadine Di Mecca Si sono venuti vedere Poi adesso è andata davanti Andata davanti Linda Poi per la rica di Natale E' una parte della Nazionale Quando mancano 38 giri Per la rica di Natale Vado a memoria classe 1988 89 Che per qualche anno E' stata lontana dalle competizioni Poi ha cominciato ad allenarti E ha fatto vedere Di che passo è fatta Medaglia Campionato italiano scorso anno Campionato europeo Convocazioni nazionali Laura Perreri Adesso davanti Laura non fare la botte con la divertente Vai davanti Vai davanti E ora Le ginec Aumenta leggermente La largatura Le ginec La scena Poi Bene Bello Lo ci ha avvicinato E ci avviciniamo Nenche L'hanno rintato Ma anche Le ginec e suona la campana al prossimo giro prima eliminazione le categorie ragazzi alle premiazioni grazie femmini e maschi finalisti quelli che hanno appena ha finito la gara eliminazione 506 506 eliminato quando suona la campana è al passaggio eliminazione tieni il posto attento all'interno eliminazione 31 eliminazione in corso eliminazione meno 31 eliminazione 849 e si sono messe davanti le francesi quando suona la campana lui viene qua bernardino poi rossi ulauei lorenzato di natale per i gatti tutte le prime sette posizioni quando siamo all'eliminazione di meno 29 1015 1010 eliminazione con 1100 838 per ammunizione 1100 si buppi eliminazione 121 121 la nostra duele massima 111 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 113 111 122 131 131 142 143 143 143 143 143 111 143 143 la campana di meno 26 saremo a metà gara 5 km e non va a Luginec poi Berardi poi Rossi poi Hulaway si lotta moltissimo si può vedere anche Elena Rossetto tanta azzurra 760 760 e non va a Luginec e non va a Luginec e non va a Luginec noterolmente assottiliato che chi non ha tirato le passiate Luginec a Bernandì il ritmo non è forse è alto ma non è nemmeno 995 995 Stefanie Rodriguez continuano le francesi adesso va avanti Alison il passaggio sarà eliminazione di meno 21 poi ultimi 4 km 93 uscita e in posta è bella questa gara è molto bella è messa davanti l'ha avventato 304 ok occupa e quando vanno via grazie 304 a Zura eliminata grazie grazie e si fa vedere anche Elena Rossello che è un paio di passiate dietro e si accende la gara è importantissimo non farsi spilare automatico ma assolutamente non lo è eliminazione di meno 17 porta ragazzi 237 7 286 poi la munizione Sofia Viaggi la Sofia intanto suona la campana al passaggio ultimi 3 km qui c'è gran parte del palento tutto il campo nazionale facile da rendano buona la maglia della eliminazione di meno 15 ok non fa al passaggio nessuno ok non fa al passaggio 288 Sofia Saloni intanto si preparino i senior maschi all'appello senior maschi all'appello per la loro finale nei 10.000 metri l'eliminazione il senior maschi è bella questa gara è molto bella l'avano avvenzato da maschi poi Luggenek Bernardi provano a controllare abbastanza bene Luggenek e Linda Rossi eliminazione di meno 13 288 Laura di Natale tuttissimo Laura Pevere intanto l'avvenzato Luggenek Bernardi Rossi e Ula di Natale da ormai 8-9 giri le prime posizioni sono queste ok occhio adesso eliminazione di meno 11 eliminazione di meno 11 eliminazione eliminazione Elena da l'inter adesso ok adesso pattina vai segui là 8-9 8-5-1 Elena Rossetto purtroppo eliminata al giro precedente 8-5-1 Elena fermarsi per favore Elena Rossetto fermarsi per favore grazie grazie Elena grazie grazie ok ok la vinta adesso la vinta 757 757 Melissa Gatti è durissima sta carica è durissima sono il 6 davanti Laura ne hai due staccate due tranquilla che sarà una questione tra Irene Paganelli e Giulia Corsini sono comunque state molto brave una gara attiratissima e adesso il ritmo è veramente alto eliminazione di meno 7 Laura hai delimianti di meno 5 Gatti no Irene Paganelli è prova Giulia ma bravissima comunque sono rimaste in 6 quando mancano 6 giri 7 calma 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 751 Giulia Corsini bravissima comunque e ora sono in 6 attenzione alla campana è timidissimo timidissimo non farti passare e sono rimaste in 6 vediamo davanti Laura lontato brava una volta all'esterno campana di meno 4 e poi 3 eliminazioni Berdadì poi dai Laura dai Rosti una volta di Natale che si infila al quarto posto e va eliminazione 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 fuori 14 2014 2014 Morallo Rimacca però in 5 eliminazione ancora al passaggio eliminazione di meno 2 Bernard di davanti poi Linda 247 2 4 7 Laura svolentato grande gara comunque per lei e ora sono in 4 campana d'eliminazione ultima eliminazione 15 44 bravissima comunque Federica di Natale ma intanto volata Linda 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 sì un anno dopo ancora vince qui a Serigalia va Bernardini e Ulauei a Pula